Viabilità singhiozzo fino a domani mattina con la speranza che il cantiere di Viale Italia, segnato da una buca profonda oltre tre metri a seguito di un cedimento strutturale avvenuto domenica sera alle 18, venga definitivamente chiuso. La rottura è in una condotta mista delle fognature, sin da subito sono partite le limitazioni e le avviabilità con il restringimento delle carreggiate limite ai 30 chilometri orari. In questi giorni sono stati numerosi sopralluoghi da parte delle forze dell'ordine e del comune della Spezia che proprio oggi ha annunciato il fine lavoro per domani mattina. Nonostante i lavori stiano procedendo a pieno ritmo i disagi alla viabilità sono stati pesanti con picchi di 50 minuti per attraversare la città perché di fatto il cantiere la taglia in due. Viale San Bartolomeo è stata congestionata per quasi tutto il giorno e le auto andavano quasi a passo duomo. L'intervento di riparazione della condotta del ripristino del manto stradale proseguirà per tutta la notte a cura di ACAM.